Per la nostra settimana dedicata alla sicurezza sul lavoro in collaborazione con l'INAI parliamo dei rischi che si corrono in porto. Quello di Genova è stato teatro di molti infortuni, incidenti mortali, ma da alcuni anni l'impegno per rafforzare la sicurezza ha dato dei risultati concreti. Li vediamo con Michela Belenziere. A cercare nei nostri archivi è impressionante l'elenco di infortuni gravi o mortali che si sono verificati nel porto di Genova negli ultimi vent'anni. E se l'impatto fatale della Jolly Nero contro la Torre Piloti con le sue nove vittime resta il massimo tributo pagato al lavoro nello Scalo Ligure, furono ben sei, quattro ingegneri e due tecnici, i morti avvelenati da anidride carbonica sulla SNAM Porto Venere il 2 ottobre 1996. Anche il 98 è un anno terribile con quattro portuali schiacciati, travolti, caduti mentre lavoravano e l'anno dopo perdono la vita due marinai della Jolly Rosso falciati da un cavo di ormeggio. Dal 2000 in poi ancora infortuni gravi o mortali. Quando il 13 aprile del 2007 Enrico Formenti muore schiacciato da una balla di cellulose al Terminal Forest, la protesta dei portuali si allarga alla città e si fermano tutti gli scali italiani. È tempo di dire basta di mettere un punto a capo. Un mese dopo in prefettura tutte le parti in causa siglano un protocollo d'intesa per pianificare gli interventi in materia di sicurezza, in termini di formazione, monitoraggio e controlli. La compagnia unica conta ancora due vittime, Fabrizio Cano Nero caduto da una porta container il 29 febbraio del 2008 e Gianmarco Desana il 23 dicembre del 2009 schiacciato nella stiva del traghetto Suprema. Ma in questi sette anni i dati parlano di un netto calo degli infortuni. Il calo è dovuto all'attenzione che ovviamente siamo tenuti a mettere nell'attività portuale a una riorganizzazione dopo alcuni eventi drammatici, al fatto che siamo tratti noi tra i primi col sindacato e nel sindacato come compagnia a spingere per formare un coordinamento della sicurezza che poi è diventato l'IRLS di sito, il SOI cosiddetto, quello che funziona come organismo centrale che mette dentro l'autorità portuale AS e un gruppo di delegati eletti dall'ambito degli RLS sindacali che attuano un'attività di intervento, di prevenzione, un'attività di controllo e quindi a questo punto di vista direi che ha funzionato. La sicurezza è al centro dell'attività di formazione. Il Comitato per l'Igiene e la Sicurezza del Porto promuove ogni anno iniziative e produce materiale didattico. Di fatto è cambiata l'ottica, il punto di partenza nel formare i lavoratori. In sostanza cosa vuol dire? Vuol dire che tu formi alla guida di mezzi meccanici, alla stivatoria, alla guida di mezzi sui sistemi informatici ma fondamentalmente parti dalla sicurezza. Dove lavoro, in che contesto lavoro, con che mezzi lavoro e in che procedura di sicurezza. Non è solo un'abilitazione alla guida, è la dimensione assunta da questa formazione, la sicurezza, la quota sicurezza è un 50% di questo tipo di formazione. Il protocollo siglato nel 2007 verrà aggiornato il prossimo 8 luglio, coinvolgendo anche il settore della canteristica e riparazione navale. Un biglietto da visita in più in vista dell'arrivo della costa Concordia. E poiché la prevenzione si impara da giovani, sono stati organizzati dei costi da parte dell'INEL direttamente negli istituti nautici Genova e Camogli. Che cosa insegnate agli studenti del nautico? Agli studenti del nautico abbiamo cercato di insegnare tutti quegli aspetti più importanti che riguardano la sicurezza sul mondo del lavoro. Quali? Principalmente quelli che sono i sistemi della sicurezza a bordo nave, quindi quelli che sono gli attori principali della sicurezza, a cominciare dall'armatore, dal comandante, dal responsabile della sicurezza. C'è riscontro da parte dei ragazzi? Che domande vi fanno? I ragazzi fanno delle domande sia tecniche, perché sono ragazzi che già lavorano, molti hanno il libretto di navigazione, quindi ad esempio quelli della classe e delle macchine mi chiedono sul rischio rumore, per esempio, quali sono i sistemi di sicurezza più giusti, più moderni che devono essere adottati. Molti mi chiedono quali sono i diritti che loro hanno nei confronti del proprietario, dell'armatore per quanto riguarda la sicurezza. Comunque sono molto interessati? Sono assolutamente interessati, tanto che sicuramente questo corso l'anno prossimo verrà ripetuto.